Un pubblico molto morente, anche se c'è molta gente, mi sento delinquente, mi sento deficiente. Non lo so di tutto quanto per estate, perché vi divertiteci e poi diciamo le cazzate. Dai Joey! I figlioli senza cellulare. Facciamo una foto. Facciamo una foto. Oh, che bello che si vedeva io so per la prima volta! Vediamo così i figlioli che poi devono andare a caccio per un uomo. Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Ti dici su così! Vieni qui! Allora, ragazzi, se vi usate del bagno dritto su belle scale, po' che vedere una rassella delle donne come storiche! Alessandra! Ti dici così! Eh così! Ecco lei lì! Mi dissocio! Grazie a tutti.